Ciao bellezze, eccomi con un altro video che non volevo fare, ma sono costretta a fare. Perché? Perché ci mettono in mezzo i bambini, come sempre, e il sistema scolastico, che ripeto, fa sempre più schifo. Allora, non volevo parlare di questa persona qui, nonostante mi dispiaccia per il suo lutto, ma non sono sicura che questo sia un lutto, quanto più sia un sacrificio. Comunque sia, si sta smuovendo mezza Italia, si è scelto questo caso come caso mediatico. E noi sappiamo che quando un caso viene scelto come caso mediatico e ci bombardano il cervello, è perché si vuole far passare un concetto, si vuole far passare un'agenda, si vogliono implementare delle cose apparentemente positive, che però senza questo caso non sarebbero state implementate. Abbiamo avuto parecchi, ma parecchi esempi dal 2020 a questa parte. Allora, Trento, Trento sembra la città presa come esperimento sociale, sia per quanto riguarda la Smart City, eccetera, eccetera. Trento, mi dispiace per loro, ha risposto in maniera forte all'appello di non una di meno, con una lunga marea umana che ha percorso le vie del centro cittadino dietro a uno striscione con la scritta La paura non ci appartiene, con la nostra rabbia lottiamo tutte insieme. Una scena molto simile come quella vissuta a Rovereto mesi fa con la fiaccolata in memoria di Iris Setti. In fondo, anche in quel caso, si parlava di donne uccise dagli uomini e questo è il contorno della storia di cui stiamo parlando, ok? A quella povera anima io non dico rest in power, io dico rest in peace e magari se ci fosse una veglia di preghiera, una fiaccolata degna di tale nome, invece si sta istigando ancora di più alla rabbia e alla violenza. Si è preso un emblema, una figura che è la nuova Greta Thunberg del transfemminismo. Trento è transfemminista, eccoci, dove vogliamo arrivare, dove vogliamo arrivare secondo voi? Allora, innanzitutto la persona in questione si è presentata a una delle prime interviste con questa felpa, qui rappresentando il bafomet. Io qui vi lascio ampiamente modo di vedere tutto ciò che questa figura, che è il principe di questo mondo, è colui che questa persona, sorella di una vittima idolatra, è il suo Dio, Satana e Luce, la mia statua preferita, Lucifero. Questo è il suo Dio, quindi non diciamo che lei non sa, perché lei sa parecchio bene anche, ok? Questo qui è il suo Dio, ok? Andiamo con ordine. L'assassino non è malato, ma figlio sano del patriarcato. Ecco che cosa si vuole attaccare, la famiglia, la famiglia tradizionale, che tutti gli uomini sono mostri, vogliamo sempre di più svilire questa figura dell'uomo, uomo bianco, patriarca, violento, figlio sano del patriarcato. Allora, le famiglie sono allo sfascio ed è vero perché? Perché i giovani perdono i punti di riferimento in famiglia e nella scuola. Ok, questa sorella, se domani sono io, mamma, se non torno domani, distruggi tutto, se domani tocca a me, voglio essere l'ultima, come ha scritto la poetessa Cristina Torres, ok? L'assassino non è malato, ma figlio sano del patriarcato. Mettiamoci in testa che questo è il nuovo slogan, questo è il messaggio che vuole passare. L'antipatriarcato, il femminismo, la violenza di genere, ora ha preso un nuovo nome, la violenza di genere. Come se le donne fossero anche tra l'altro incapaci di violenza, no? Questo caso ha assolutamente oscurato il caso della madre che ha lasciato morire la figlia. E non dico altro, tanto sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, ok? Questo è il nuovo slogan, questo è dove si vuole arrivare. La 22enne uccisa l'11 novembre dall'ex fidanzato. Questo sito Euronews è l'ottantatreesimo femminicidio dall'inizio dell'anno. In migliaia per Giulia, bruciamo tutto per te. Bello questo slogan, mi piace, bruciamo tutto per te. Ricordatevi che dietro a una cosa apparentemente positiva si nasconde qualcosa di marcio, perché altrimenti il marcio per sé non lo accetteremo, ma secondo me arrivati a questo punto lo accetteremmo pure, no? Bruciamo tutto per te. Ecco un nuovo slogan, quindi questi tormentoni, questa ripetizione, questi slogan. Figlio non è un mostro, ma figlio sano del patriarcato. bruciamo tutto per te, ok? E qua dice le 104 vittime del femminicidio e i numeri 30 today li lanciamo, ok? La paura non ci appartiene, con la nostra rabbia lottiamo tutte insieme. Andiamo avanti. Scesa in piazza ieri sera 20 novembre per Giulia, l'ultima vittima di un femminicidio contro la violenza di genere. È qui che vogliamo arrivare? E i ministri salti in banco, i pagliacci, che cosa fanno? Introdurranno l'educazione sentimentale barra sessuale. È qui che si vuole arrivare. A me è stato detto che domani il mio bambino di cinque anni deve indossare una maglietta rossa. Io ho detto ma perché rossa? Perché rossa è il simbolo, è il colore contro la violenza sulle donne. La mia unica risposta è stato beh, hanno decisamente scelto un colore molto appropriato per rappresentare la non violenza. Scegliamo il colore del sangue. Perfetta questa cosa. Guardate, mi sto incazzando veramente. I miei figli non andranno a scuola domani. Comunque, Trento è transfemminista e lo abbiamo visto. Trento è transfemminista come le altre 102. Ecco, i numeri a caso, no? Il lungo elenco. Per Giulia non fate un minuto di silenzio. Per Giulia bruciate tutto. Che tremi ogni fascista. Oggi Trento è transfemminista. Ma ci rendiamo conto? Sveglia! Sveglia Italia! Giulia! Che ti hanno messo a 90 gradi in tutto! Per Giulia non fate un minuto di silenzio. Per Giulia bruciate tutto. Che tremi ogni fascista. Oggi Trento è transfemminista. Ma ci rendiamo conto? Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce. Vedete? Dietro a una cosa buona infilano un'agenda satanista. Malvagia che è diretta ai giovani, ai bambini. Mio bambino frequenta la scuola dell'infanzia e deve andare con una maglietta rossa. No! Io dico no! Come quando facevano i tamponi nelle scuole. Io dico no! Ok? E ogni volta il mio figlio gli dicevano ma dai vieni fallo. E lui diceva no! Non lo faccio perché mia mamma mi ha detto di non farlo. Ok? Difendiamoli noi sti figli da questo lavaggio del cervello. Questa è violenza. Si sta inneggiando alla violenza e all'anarchia. E ora ve lo spiego ancora meglio. E di nuovo lo stupratore non è malato. È figlio sano del patriarcato. Baram baram baram. Ci fanno anche la rima. Sveglia! Sveglia ragazzi! Quanto è difficile! Mio dio! Quanto è difficile! Ok? Questo è un canale, credo su TikTok ma anche su Facebook, che parla di questa storia. Quello che dice è giusto, secondo me non dice affatto stupidaggine. Per farvi vedere la maglietta che la nuova Greta Thunberg indossa. Secondo voi l'ha messa a caso? Ma è tutto un caso, no? Questo è il padre. Il padre che dice pover uomo ha avuto due lutti. Ci credo. Secondo me comunque questa povera creatura è un sacrificio. è esattamente un sacrificio per portare avanti tutto questo. Ok? Proprietario dell'azienda Fornext. Ok? Un'azienda transumanista che già nel 2020 raccoglieva dati attraverso un arnese termoscanner riconoscimento facciale per riconoscere se uno era positivo o negativo all'influenza. Ok? 2020. E lo dice qua. Termoscanner per prevenzione Covid-19 Fornext. Martedì 28 aprile 2020. Ok? Eravamo già a questo. Eccolo qua. Ok? Un raccolta dati in ogni caso. Ok? Raccolta dati. Data logger, bridge modus, sistemi di telecontrollo e raccolta dati. Che carino! Ok? E l'abbiamo visto. E va bene. Ecco un altro arnese molto efficace per la raccolta dei dati personali. Ok? Per Giulia bruciate tutto. Rest in power. Ok? Con quella famosa foto delle due. Ok? Infatti lei viene rappresentata come un angelo. E va bene. Io spero che qualcuno, qualche vescovo preghi anche per quest'anima. Non soltanto bruciamo tutto. Ok? E cose di questo genere. Poi, purtroppo, come migliaia, ma penso milioni di persone, sono andata a vedere la pagina Instagram di questa qui, che tra l'altro ne ha due. Una con la sua arte e una con i suoi. La sua vita è una ragazza che ha viaggiato moltissimo. Quindi è una privilegiata, sicuramente una fortunata. Mi dispiace, ma io non credo nel suo dolore. Mi dispiace. Io sono la cattiva. La cattiva sono io. Tutta la società è buonista e perbenista. La cattiva sono io. Lo ammetto. Ok? Sono una persona cattiva. Ma secondo me questa qui non soffre tanto per questa morte. Ok? Ok? In tranquillità a Londra lei si guarda American Horror Story. Ok? Be gay. Do crime. Questa pagina mi fa venire un po' il vomito perché... Ok? Bondage. Questa mi sembra molto... una foto molto alla Balenciaga. Con gli scandali degli orzetti legati con il bondage. Che ne dite di questa immagine? Vi piace? Credo che la farò immagine di copertina. Questa, no? Il bondage. Raccapricciante questa foto semplicemente. Ok? Questa forse la conoscete. Ed eccolo. La mia statua preferita di sempre. Lucifero o il genio del male di Guillaume Giff. Forse è la volta buona che vengo bannata. Comunque non mi interessa. Questo è il suo libro preferito. Beh, che dire. Non so che libro è ma questo è chiaramente un Nephilim. Quindi una creatura di Satana. Cioè gli angeli caduti che si mescolano con gli uomini e con gli animali. E creano queste chimere. Molto simile al film Splice. Ok? Che vi consiglio molto di vedere. E che è la copertina di uno dei miei primi video dove parlo di Genesi. Dove parlo di queste creature qui. Ok? Mi scugli repellenti tra esseri umani, angeli caduti e animali. Il suo libro preferito. Ok? Ganesha Orientis. No? Il Ganesh credo il dio. Comunque sia non mi interessa. A lei la morte piace un sacco. C'è da dire. È abbastanza ossessionata con teschi e schifezze varie. Help me fall. Cancellato in love again. Cioè aiutami a cadere. The fall. Che dice? Piace a questa foto. Piace a rotten corpse. Sono andata sul profilo di questa qua. Lil Rotting Corpse. Questa è un'amica. She found out she's got no soul. But it really doesn't bother her. In hell. Ha scoperto di non avere un'anima ma questo davvero non la disturba. Dove si trova? All'inferno. Ok? Bene. Bellissima anche questa immagine. Mi ricorda molto i parti satanisti dei Rothschild. Ecco qua. Creature. Fissazione totale con le bare. Diverse foto di lividi e di morsi. Ok? Andiamo avanti. Questa è la famosissima foto. Ok? Di nuovo i lividi. Croce al contrario. Con una motosega. Simpatica. Tra l'altro questo profilo è molto studiato. Secondo me. Secondo me è curato anche a livello professionale. Anche se può sembrare casuale. Questo profilo è secondo me creato ad arte. C'è una persona dietro che ha curato questo profilo. Capita su Instagram. Ci sono queste persone che ti fanno da manager del profilo. Gli danno un volto. Gli danno una identità. Questo profilo è assolutamente una identità. È anche quasi monocromatico. Cioè gioca su pochissime sfumature di colore. È molto d'impatto. Questo è sicuramente un profilo che è curato da una terza persona. Ok? E la sua immagine è curata da una terza persona. Che carine le bare. Patrono. Il santo dell'erciume. Saint of filth. Filth è tutto ciò che è lurido e marcio. Ok? Saint of filth. Come dico, ogni foto lei sta da qualche parte. Ok? Quindi una persona che viaggia. Questa è l'unica foto in cui appare per la prima volta il colore rosso. Ok? Foto di cannibalismo preso da un film che credo sia Scream. Credo sia il primo Scream. Ok? Ok? La simbologia del coniglio bianco. E qui chiudo. Vi faccio vedere i colori. Perché dobbiamo indossare una maglietta rossa? Perché hanno scelto la maglietta rossa come simbolo della violenza sulle donne? Ok? Io ho cercato semplicemente il significato esoterico del rosso, proprio per farvelo nuovamente capire. Anche se ne ho parlato anche nel mio ultimo video sull'ossessione per il sangue, che non mi sembra arrivato a caso. Ok? Qua potete leggere esoteric meaning of colors. Black, blue, gold, green, indigo, orange, purple, red. Perché hanno scelto il rosso? Il rosso è il colore del sangue. È il colore delle streghe. Ok? È il colore che fa il mocking, quindi la presa in giro del sangue di Cristo. Ok? Sveglia. Energy, passion, anger, rabbia, energia, passione, rabbia, infiammazione, lust. Lust è proprio la voglia sessuale quella violenta. Cioè, quando uno viene preso da una crisi di lust, può anche stuprare qualcuno, per dire. Non è una rousa, l'uneccitazione. È lust. È, diciamo, alla base più animalesca dell'istinto sessuale, della voglia sessuale. Forza. Protegge contro gli attacchi medianici. Marte governa il colore rosso. Marte. Eppure noi lo scegliamo contro il colore, contro la violenza sulle donne. Mi sembra adattissimo come colore non violento. Ma cavolo! Vendetta, rabbia, pure sex drive, quindi puro istinto sessuale, così come lust, gratificazione fisica, coraggio, determinazione, confronto col nemico. Il rosso è usato per incitare incidenti, fuochi, cioè incendi e ferite. Può anche essere usato per l'autostima, per le performance atletiche, per la forza. È l'energia magica che serve per creare la magia nera. Perché è il colore delle streghe? Per questo streghe vestite di rosso praticano magia nera, ok? Per rafforzarsi prima di performare magia nera, indurre intensità, incita alla lussuria, ecco non mi veniva il termine. Lussuria, energia, forza, energia sessuale, dinamismo, amore passionale, desiderio fisico, coraggio, forza di volontà, potenza fisica, vitalità. Usato nel nero, il rosso, al contrario della porta nera, causa immediatamente attacchi, accidenti, cioè incidenti, sangue, violenza, odio, hatred. Il rosso può essere usato per incitare alla guerra, all'anarchia, alla crudeltà, Marte, l'angelo caduto Marte, non il pianeta Marte, ok? La divinità, l'angelo caduto Marte governa sul rosso, è l'elemento del fuoco, ok? Il rosso è anche quello che governa il chakra di base, la radice che è quella che si trova, diciamo, nel perineo, è la nostra energia più animale, quella che ci attacca alla terra, ok? Io ho concluso questo video perché chi vuol capire, capisca, state attenti a quando viene cavalcata un'onda mediatica con questa intensità, perché ci sono due ragioni, o ci stanno distraendo perché dietro le quinte stanno facendo qualcosa al coperto, perché noi siamo troppo impegnati a fare questi discorsi, oppure perché si vuole far passare un'agenda, in questo caso, secondo me, il transfemminismo, l'educazione o indottrinamento di genere, la distruzione del maschio come padre, come figura forte che protegge la donna, ok? Vogliono farlo vedere come un essere che sfrutta la donna, quando non è così, queste sono delle eccezioni, ok? Non è la regola, non ci si deve sentire in colpa per essere degli uomini e avere delle caratteristiche mascoline, capite che non c'entra niente, tra l'altro quel criminale che ha fatto quello che ha fatto, è tutto da vedere, è tutto da vedere se lo ha fatto, non mi sembrava questo grande macio, ok? L'educazione sessuale nelle scuole, chiamata educazione sentimentale, ok? L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha questa agenda di introduzione dell'educazione sessuale dai quattro anni, partendo dalla masturbazione, alla scoperta dell'altro, all'omosessualità. Sveglia, ragazzi, sveglia, cerchiamo di guardare il disegno più grande, non sempre il singolo fatto, senza riuscire ad avere una visione d'insieme, ok? Con questo chiudo. Grazie per essere stati con me fino alla fine. Baci da Nirvana.